Benvenuto nella scheda tecnica di questo nuovo portatile MSI GE72 MWR 7RG Apache Pro venduto in Italia come esclusiva AK. Questo portatile è un'esclusiva AK in quanto è personalizzabile sotto il punto di vista della RAM, dell'HDD e dell'SSD. Ovviamente sul sito è già presente in 7 diverse versioni ma potrete andare a richiedere le vostre personali modifiche. La personalizzazione che state vedendo in questo video è la numero 3 ed ha come caratteristiche un i7 di ultima generazione quindi Scaby Lake 7700HQ con una GTX 1070 con 8GB di RAM dedicati. Affiancati a CPU e GPU troviamo poi 16GB di RAM DDR4 a 2400MHz con un hard disk meccanico da 2,5 pollici da 1TB ed un SSD da 512GB in formato M.2 su cui è installato Windows 10 Home Edition. Il portatile con queste caratteristiche riesce a gestire anche la realtà virtuale e non ha nessun tipo di problema riguardo alla dissipazione in quanto il nuovo sistema dissipante chiamato Cooler Boost 4 avente fino a 6 heatpipe in totale e ben due ventole che vanno a raffreddare separatamente CPU e GPU vi consentiranno di giocare e lavorare ore e ore in interrotte tenendo comunque contenuto il disturbo acustico. Tutte le immagini poi verranno trasmesse ad un monitor da 17,3 pollici con tecnologia IPS e ben 120Hz di frequenza con 5000 secondi di latenza. Un monitor che vi permetterà di giocare e lavorare visto il buon contrasto di colore e luminosità presente in questo pannello. Il tutto racchiuso e trasportabile in meno di 3 kg. Come MSI poi ci è abituato a vedere e trovare nelle sue componenti, quindi computer, schede madre, schede video e quant'altro anche in questo portatile troviamo quelle che sono le ultime tecnologie, software e programmi disponibili per l'utilizzo. Dal sistema audio che è il DIN audio con vari autoparlanti presenti nella scocca sottostante fino alla tastiera SteelSeries, RGB o ovviamente a vari software come il Gaming Center vi permetteranno di gestire in completo tutto quello che è l'ecosistema di questo portatile. Per concludere quelle che sono le prestazioni generali del computer sappiate che nel benchmark del Superposition in risoluzione 4K e dettagli tutto al massimo il computer riesce a generare 38 fps di media. Abbassando la risoluzione al Full HD per quello che è il benchmark dell'UniGine Even riusciamo ad ottenere un putteggio medio di 86,5 fps. A questo punto quello che manca è il prezzo e in questo ultimo può variare a seconda delle configurazioni presenti sul sito quelle che andrete a personalizzare. Si va da un prezzo minimo di 1799€ per la configurazione con un solo hard disk meccanico da 1TB e 16GB di RAM fino a un prezzo di 2549 con un hard disk meccanico da 1TB, un SSD da 1TB e 32GB di RAM nel complesso. Sappiate infine che tutte le configurazioni presenti a sito o quelle che andrete a personalizzare avranno ben 3 anni di garanzia con assistenza pre e post vendita e un bel bundle ricco di gadget, accessori e un bellissimo zaino per trasportare il vostro computer dove volete. Il tutto ovviamente su AK.